ciao a tutti amici e amici di inside to games ben ritornati su raybone 6 siege nella modalità nuova raybone is magic che è una modalità tutta tutta diciamo a tema fiaba per così dire c'è raga in poche parole è come un racconto c'è una voce come infatti adesso penso che appena iniziamo il round sentirete una voce che racconta una favola allora è qui raga prendo cap can anche perché in questa modalità a parte che un po la skin perché ha giocato a code world world 2 ha visto più o meno le stesse skin per i soldati cioè noi non muoviamo più soldati veri e propri ma tipo giocattoli vedete raga ecco da come potete sentire c'è questa voce che dice tipo vi faccio degli esempi a parte che spero che l'avete sentita sta voce che dice i cattivi dovevano trovare il signor orso io ho già giochicchiato ma poi a parte che è solamente questa mappa qui non ci sono altre mappe e gli operatori sono molto molto limitati questo mi chiude fuori anche il cervello di quello è molto limitato secondo me cioè io sto qua mi chiude fuori ma vabbè comunque raga stavo dicendo no 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 vabbè continua raga a chiudermi fuori non so come mai ok allora noi adesso ci barrichiamo è sempre da tenere sotto controllo non è che siccome è a tema fiabesco non so nemmeno se il termine giusto bisogna star tipo leggeri vedete invece dello stagio classico abbiamo l'orso ok che poi io non gioco a rainbow da non so comunque sempre dall'anno scorso a momenti comunque sono due mesi due tre mesi buoni che non gioco a rainbow vediamo un po se siamo ancora e saltato uno con la con la trappola che avevo messo perfetto siamo con quattro contro quattro vedo sento delle esplosioni io non so se voi sentite anche passi mi sa che è saltato un altro con con la bomba tipo una cap can si è usato soprattutto in questa mappa fa danni e comunque cap can anche perché io come sempre se vi taglio qualcosa se vi taglio qualcosa raga è solamente per non annoiarvi io so i punti dove devo tagliare e i punti invece dove li lascio questi punti qui ve li lascio perché è come se giochiamo insieme vi faccio vedere proprio tutto l'hype che si crea nel nel difendere il signor orso ok io ho sbagliato tasto volevo fare c'è uno lì c'è ammazzato quello meno male ricarichiamo questo sta proprio a significare la prova evidente che non gioco a rainbow da da mesi che poi non è che ho giochicchiato prima e adesso sto registrando io ho giochicchiato il giorno precedente nel momento in cui sto registrando quindi questa è la prima prima mano diciamo che in giornata faccio che poi erano già mesi e mesi che non giocavo quindi ecco quello anche è giù quindi il resto solo io non so cosa posso fare io da solo sinceramente anche perché si sono chiusi tutti male e si sono chiusi qua senza muoversi ok tu vai fuori abbiamo vinto questo che vuole ma abbiamo vinto per tempistica non ci ho fatto caso comunque sono riuscito a tenere testa ma più che altro perché chi gioca a livelli più competitivi a livello a livello pro player che gioca a livello da pro player diciamo comunque che gioca già a livelli competitivi sa che se bisogna difendersi bisogna difendersi in maniera coerente cioè nel senso non tutti quanti intassati lì e non troppo sparpagliati perché se ci sparpagliamo e uno cade lo abbattono ovvio che io non posso far tutta la mappa per andare a recuperarlo per rianimarlo ecco vedete quello si butta avanti questo che ho sparato è morto e vabbè e beh io non gioco da parecchio a rimbo ma questi qua mi sa che anche se giocano mattina e sera ma non è che hanno tutta sta sto potenziale diciamo allora faccio dei bocchettini qui giusto per vedere se c'è qualcuno camperato qua all'interno che bella raga che poi non so se ci avete fatto caso ho dimenticato anche di dirvelo all'inizio a parte che quando rompete il muro vi fa tipo l'effetto stella e poi tutto l'aereo è circondato di fiori tappezzato cioè questo non l'aveva visto manco arrivare raga non l'aveva visto arrivare comunque è tutto tappezzato di disegni eccetera vabbè continuano a farsi ammazzare come niente questi qua ok ok io non posso adesso rianimarlo perché se io esco da qui so che sulla sinistra c'è qualcuno e mi fa fuori pure io l'ho mirato eh l'avete visto cioè io ho sparato in quella direzione almeno che non l'ha schivati i colpi cosa molto improbabile ma io comunque l'ho sparato boom mamma mia che precisione ma va va che precisione questo piccolo buco qua l'ho visto una cosa passare proprio quando si usa il termine sparare a qualsiasi cosa si muova ok ce la facciamo strisciando si facciamocela strisciando la telecamera se la rompo avviso questo qua quindi non la vedo in funzione non so nemmeno se si è rotta cioè se si è già rotta qua sento qua boom uno giù no raga vabbè questo ha fatto la mia stessa tattica cioè era steso anche lui vabbè però io già ho fatto fuori quello già ho fatto fuori a quello stavo dicendo raga ho fatto fuori a quello che era steso vi ho saltato un po' raga per non annoiarvi che ho messo tutte le trappole e quant'altro ma qui la vedo proprio una situazione meno 80 perché che ho fatto? cioè io non ho fatto niente cioè non ho fatto niente non è che ho lanciato una granata o vabbè meno 80 ho ucciso un nostro alleato non so come forse lui ha fatto saltare qualche bomba che avevo piazzato qualche trappola che avevo messo non lo so ok qui la vedo lo stesso difficile uscire da qua perché in questa situazione non bisogna stare non bisogna essere tutti camperati nello stesso punto ma bisogna tipo un po' allargarsi come sto facendo io ma non andarsene via ecco ma qua non c'è nemmeno il mirino di Druk o Twitch che sono abituato chi mi segue dall'inizio lo sa e io non li vedo eh no non li vedo mi sembra che c'è uno lì ma eh vedete raga c'è uno lì ma non riesco a vederlo lancio una granata più 5 non so che ho fatto ecco ecco questo è il mirino che poi ah ecco mi ha preso in secondo momento vabbè siamo ancora primi raga con le nostre 3 kill adesso ok piazziamo no vabbè non ho parole non ho parole vabbè ci sta quando giochi un po' più così in maniera leggera ci sta ecco una giocata da pro player è proprio questa quando vi avvicinate ad una barricata nonostante tutto ci sia una barricata ma di stendervi sempre e controllare i piedi se c'è qualcuno perché se io ehm avevo quell'input adesso tutti quanti insieme prima me l'avete fatto andare da solo vabbè eh se io ecco vedete se avevo l'input che avevo più manuabilità nel senso che non manuabilità nel senso che ehm avevo giocato un po' più spesso in questi giorni avevo quell'input da stendermi una cosa che io avevo proprio dimenticato di fare giusto perché ecco allora qui ci stanno sicuramente qualche cittone e da qua purtroppo non lo posso peccare cittone per chi non lo sa è quello che ehm usa dei trucchi nei videogiochi qua c'è qualcuno eh non vorrei che sbuca l'ultimo come come sempre ok qua nessuno giù nessuno ok qua c'è il muro comunque anche Ash comunque è un un'operatrice cioè un operatore che si può usare in maniera ecco boom headshot raga comunque un personaggio Ash anche intuitivo proprio perché è veloce qua non posso attaccarla eh no boom vabbè l'ho visto all'ultimo però va bene sbuca qualcun altro poi da qua sbucano sempre ma va vabbè però voi avete visto cioè io ho sparato nella stessa direzione dove era lui e nonostante tutto non lo prendeva sconfitta è giusta va bene ragazzi e ragazze per questo video è davvero tutto nonostante tutto la sconfitta credo di aver fatto eh comunque una partita diciamo degna del mio canale comunque eh lasciate sempre l'hashtag viveinside vi ringrazio sempre di cuore per il supporto iscrivetevi al canale se non siete iscritti attivate la campanella condividete il video seguitemi su instagram vi lascio tutti i link in descrizione lasciate un bel pollicione all'insù raggiungiamo i 100 like per un prossimo episodio su raybone 6 fatemi sapere se volete vedere di nuovo su raybone 6 questa modalità io vi ringrazio di cuore per il supporto come ho detto ci vediamo alla prossima ciao da inside 2 games ciao 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 ciao